cambiare l'orario ma mi riesce veramente impossibile ormai Marco, prego, stavo giusto spiegando ai tuoi compagni che da quando ricopro il doppio ruolo di professoressa e preside mi è ormai diventato impossibile seguirvi per cui ti puoi accomodare per favore? ah sì certo da oggi vi affido alla professoressa Diodan Levi buon lavoro allora, prima di tutto non vi azzardate a chiamarmi né professoressa né prof e chi userà a darmi del lei verrà immediatamente sbattuto fuori da questa porta sono Rachele, Rachele e basta lo so sono un po' più vecchia rispetto a voi però non sarebbe carino sottolinearlo iniziamo con l'appello? io sono Walter Masetti sì, e allora? vabbè era così beh partiamo da là dai vabbè amato Giuseppe